La reazione civica è stata immediata dopo l'incendio doloso che ha praticamente distrutto il centro sociale Cartella nel quartiere di Gallico a Reggio Calabria, subito l'assemblea di tutti coloro che giornalmente danno vita alle attività sociali e culturali di questa struttura. Proprio nell'arena accanto al centro sociale che è stato purtroppo distrutto dalle fiamme si sono ritrovati tanti cittadini, tanti militanti nel senso di impegno quotidiano dedicato al centro sociale. Ovviamente la politica ha anche dato la sua piena solidarietà ma soprattutto gli intellettuali, tanti intellettuali artisti che spesso hanno collaborato con il centro sociale Cartella. Bisogna reagire, è stata chiara la determinazione, la volontà di mandare questo messaggio. Di fronte all'arroganza, di fronte alla violenza non ci fermiamo in buona sostanza il monito lanciato dai responsabili della struttura. Continuiamo e continueremo per far sì che il centro sociale ritorni ad essere ancora una volta momento di aggregazione. Tra i tanti interventi sicuramente si è evidenziata una filosofia di vita al di là della connotazione ideologica e politica che può naturalmente caratterizzare l'impegno del centro sociale Cartella. È stato detto, manca in questo momento di crisi sociale ed economica i luoghi di aggregazione. Quando uno di questi viene colpito certamente è un colpo al cuore, ma ribadiamo, la reazione ci sarà, bisogna continuare ancora e sicuramente questo avverrà. Siamo qui per dire che non sono questi gli atti che ci faranno chiudere questa esperienza che da dieci anni continua nella città di Raggio Calabria. La struttura è stata danneggiata ma noi abbiamo l'intenzione di lanciare una campagna per ricostruirla e per continuare a fare quelle attività che hanno dato fastidio e che hanno portato a questo atto. Nino Racco, attore conosciutissimo, che porta il suo messaggio di solidarietà qui al centro che è stato distrutto, il centro Cartella, però la cultura non si ferma nemmeno di fronte agli atti dolosi e inqualificabili. Beh, anzi, certo no, ma gli atti dolosi come questo qua dell'incendio del Cartella hanno un significato profondo. Quando avvengono questi fatti qua non avvengono in maniera casuale. La prima cosa che ho pensato è che questo naturalmente si inquadra nella crisi politica nazionale.